Una o due giorni di riforestazione con ospiti importanti e mille sorprese, percorsi di educazione ambientale, passeggiate in bicicletta, laboratori di riciclo creativo per bambini, lezioni di cucina naturale ed altre ancora per un fine settimana molto green. E' stata questa la manifestazione Air Day che a Capodorlando ha puntato l'attenzione sui temi della sostenibilità e della salute con appuntamenti sia nell'isola pedonale che fuori dal centro urbano. I momenti più significativi infatti sono stati quelli al parco suburbano di Scafa dove sono stati realizzati i piccoli orti biologici. Sì, questi sono due orti in permacultura che abbiamo realizzato, al momento sono didattici, è un esempio per far vedere come creare un ecosistema che sia sostenibile, non ha bisogno assolutamente di nessun input da parte dell'uomo. Ovviamente questi orti hanno già naturalmente tutto quello di cui hanno bisogno tranne l'acqua. Eh sì, l'unica cosa che forniamo appunto è l'acqua durante la stagione più calda e più secca, c'è un sistema di irrigazione sotto la paglia, per il resto si supportano da soli. E lo spazio del Giardino delle Farfalle invece? Il Giardino delle Farfalle è uno spazio dedicato ai più piccoli perché è stato costruito dal New British College nella giornata di ieri pomeriggio per attirare le farfalle ma anche per dare un tocco di colore. Ma nel corso della giornata si è parlato soprattutto di alimentazione ed anche della necessità di ritrovare nella natura cibo e medicine. Attraverso una buona insalata, un buon pasto ricco non solo di verdure ma anche di fiori perché anche i loro fiori sono meravigliosi, vanno bene, sono utili, si possono fare degli ottimi decotti o anche dei buoni cataplasmi ma anche in crudo e soprattutto nel crudo si riesce a trovare di tutto per il benessere. Grazie. Grazie.